La luce! Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Alberia, ascoltate! La parola d'ordine è una sola! Categorica e impegnativa per tutti! Quindi, essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! E vinceremo! 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 Per dare finalmente un lungo periodo di pace con la giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo! Vinceremo! 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 Vinceremo!